che voleva tanto bene ad Anna. Era il 2022. Erano trascorsi 37 anni da quando Egisto era arrivato in città con la moglie Anna. Adesso possedeva una piccola fabbrica che un giorno sarebbe stata di suo figlio. Abitava in periferia, in un quartiere di panorami aperti, una riserva inesauribile di immigrati. C'era Anthony, un giovane suo dipendente che voleva tanto bene ad Anna come a una madre. A poco a poco la fabbrica di Egisto divenne l'orgogliosa regginetta delle fabbriche vicine. Aveva cento dipendenti, una macchinetta produttiva che per rapacità faceva concorrenza alle fabbriche più grandi. Che cosa poteva chiedere di più Egisto alla vita? Questa in breve era la serie di fotogrammi in cui era rappresentato Egisto il mattino del 12 giugno 2022 quando ebbe la prova che la moglie lo tradiva con Anthony. Quella notte Egisto aveva dormito in fabbrica. Si svegliò poco prima delle quattro e decise che avrebbe continuato il sonno a casa. Prese la macchina, parcheggiò nel box e non bussò per non svegliare la moglie. Aprì piano la porta con le chiavi e si diresse nella camera da letto. Udì gli affanni amorosi della moglie e del giovane Anthony. I primi raggi del sole foravano il buio del corridoio. L'orologio a muro segnava le quattro e mezzo. La mente di Egisto scese verso il basso, rimbalzò verso l'alto, cade nella rete della vendetta. Egisto tremò e vibrò. I ricordi ballarono e scivolarono verso il basso. L'immagine della moglie si sbriciolò ai suoi piedi. Pianse di rabbia ma non irruppe nella camera da letto e ritornò in silenzio in fabbrica. La mattina però Egisto si sentì energia. Proprio tutto si sentì energia. Insieme alla sua fabbrica, insieme alla sua vita, insieme ad Anthony e a sua moglie, insieme al tradimento. Sì, energia, spirito che si accrebbe, che diventò forza superiore, che imparava la lezione del tradimento della moglie.